Ragazzi, bentornati! Io sono Dac e questo è il 65esimo episodio della mia serie su Minecraft. Ragazzuoli, come state? Spero bene. Oggi ci troviamo qui perché ho rivalutato un attimino questo progettino e quindi oggi andremo a progettare la nuova area che voi direte, sì ma questa non l'hai finita, ma questa diciamo che è un'area per quanto riguarda le farm, perché così, non lo so, posso stare a FK lì o qua al centro e tutte le farm continuano a funzionare, che era questa l'idea. Qua invece diciamo che voglio fare una zona più estetica, magari con più venditori villager, anche perché siamo più vicini e quindi diciamo è più interessante come cosa, però direi che è meglio fare le cose di giorno. Ed eccoci qui. Allora, cosa dobbiamo fare? Sinceramente questa cosa qui che ho visto non mi piace perché finisce subito, per così dire, quindi quello che andrò a fare è semplice, qua si va a spaccare, si spacca questo, e si va a fare una linea, per così dire, e qui praticamente questa parte non ci sarà più, perché sarà semplicemente una struttura dritta, molto semplicemente una struttura dritta. Questo perché secondo me potrebbe dare un po' più di distacco e ingrandire l'area, perché se avessi fatto subito la piazza, diciamo che non è che mi sarebbe piaciuto così tanto effettivamente, invece facendo in questo modo, secondo me si aggiunge quel non so che di carino. Ora, io direi che arriviamo fin qua, e qua invece spacchiamo totalmente tutto tipo così, non male, in questo modo, qua facciamo una roba del genere, così iniziamo un po' a capire anche come girano le cose effettivamente, in questa maniera. Andiamo a prendere altre andesite che altrimenti qua facciamo ben poco. Quindi l'idea è continuare con la strada 3, ovviamente, perché io voglio una strada che praticamente dal fondo fino a lì tu guardi e vedi la cattedrale, perché comunque è un effetto che, cioè, guardando già qui dici, wow, ed effettivamente voglio mantenere questo effetto, dato che qua poi sarà tutto chiuso e tutto chiuso. Anche se in verità magari potremmo fare delle mura più basse, però secondo me, non lo so, cioè il cancello sicuramente doveva essere così alto per svariati motivi. Delle mura più basse secondo me potrebbero solo che rovinare, bisogna ragionare effettivamente su come farle, sicuramente sarebbero meno faticose fino a lì. Non c'è alcun dubbio. Allora, io direi che possiamo fare una cosa del genere, così ci viene un po' più facile poggiare le svariate cose. Così. In questo modo, qua, effettivamente in questo punto qui, possiamo iniziare a poggiare la struttura, effettivamente, che al posto di essere qui sarà di qua. Quindi qua andiamo, ovviamente magari con dei blocchetti, a delimitare nuovamente l'area, in questo modo qui. Quindi praticamente possiamo di nuovo rifare una piazza. La piazza non sarà effettivamente così grossa, perché insomma non mi sembra proprio il caso di fare una roba enorme. Voglio dire, stonerebbe un pochettino una cosa davvero grossa. In più quest'area comunque è un'area di, diciamo, inferiore elevatura. Che non so se si può dire, ma noi lo diciamo. Quindi l'importante è questo. Allora, qua andiamo a fare altri due blocchetti. Stessa cosa qui. Qua abbiamo già due e quindi giriamo di qua. Come vedete facciamo in fretta ad arrivare qua. Perché comunque l'area, spandersi in questa maniera, è molto facile arrivare a zone comunque molto grosse, estremamente grosse. Ricordiamoci che comunque ci deve essere un distacco dall'acqua, non indifferente. Non dico tutta questa altezza, ma magari in alcune zone sì. Perché ci devono essere le fogne. E le fogne devono starci effettivamente. Quindi è una roba un po' complicata far stare anche le fogne. Dato che voglio che questa, diciamo, zona sia quanto più realistica possibile. Perché a me piace il realismo, se non si fosse capito. Ovviamente nei limiti di Minecraft, perché comunque non è che voglio stare qua a progettare troppo la città. Diciamo che un minimo di organizzazione, come quella che sto facendo adesso, giusto per capire le misure, le aree, eccetera, può tornare utile. Ma perché sto facendo tutto questo casino? Per la piazza. Ma sulla piazza che cosa ci sarà di così importante che mi sta facendo, diciamo, costruire anticipatamente? Allora, innanzitutto, la possibilità di costruire strutture più piccole, come questa qui, che è solo un, diciamo, due per due. E ad esempio, non lo so, mi serve un venditore o un alchimista. Va bene, un alchimista magari avrà una struttura un po' più grossa, lui dedicata. In verità un alchimista probabilmente sarà nella zona centrale. Però, ad esempio, non lo so, dei mercanti vari che non utilizzeremo così tanto, potrebbero essere messi in queste strutture o qualcosa del genere. E ancora da pensare, ci sono tante cose sul fuoco quando si parla di strutture così grosse, cioè complessi di strutture, perché non è una sola struttura. Certo che successivamente, in futuro, ovviamente, sarà considerabile come una sola struttura, cioè una città. Ma secondo me, una struttura sola non può mai arrivare alla bellezza di una città, perché quando costruiamo una città, cioè è un insieme di piccole strutture tutte trattate benissimo, con un solo stile, e questa cosa, diciamo, è come se staccasse la bellezza di tutto. Più il tuo strutture aggiungi, più diventa bello, più diventa bello, più diventa bello, più va regato e più diventa bello. Fino a che arrivi a un punto che non la puoi battere con una struttura singola. Perché dici, wow, la città, però, tu la esplori e hai i suoi segreti, le sue cose. Questa è una cosa molto, molto bella, secondo me. Spero che i video, diciamo, discorsivi vi piacciono un po' di più nel mentre che costruisco, così che non vengono video troppo corti e magari vi possa intrattenere un po' di più. Allora, ora ci servirebbe un po' di gravel ancora, perché ne serve, e ci prendiamo anche un po' di polishid, perché ne utilizzeremo molte in questo video. Sicuramente ci dobbiamo portare avanti con la polishid, e quindi iniziare a mostrarvi la mia idea. Allora, qui di erba non penso ce ne sarà poi molta, probabilmente, perché effettivamente la vedo un po' difficile trovare molta erba in quest'area, però mai dire mai. Allora, facciamo così, così riusciamo già a raggiungere qualcosa di interessante come, diciamo, forma per capire cosa dobbiamo fare. Allora, in queste aree avremo la strada larga 3, perché voglio che sia così, perché è una piazza, altrimenti non ha senso, che poi si congiungerà quindi con quelle strade lì. Questi congiungimenti, queste cose, mi piacciono un sacco, sono intricate, ti puoi perdere e non fare mai la stessa strada se continui a camminare. Magari al centro di questa piazza potremmo mettere un haste, ad esempio, o uno speed, non lo so, qualcosa di carino. Secondo me speed è un po' meglio, perché effettivamente non arriva fino alla chiesa, perché sarebbe davvero infernale avercelo anche in chiesa speed, dato che abbiamo la soul sand. Però avere uno speed 2 per girare nella città, secondo me potrebbe essere molto, molto interessante. Molto interessante. Guardate, solo facendo le strade quanto è cambiata l'area. Soltanto mettendo queste strutture che sono in aria, sono brutte, ma tutto è così bello. Questa cosa è fantastica. Non capisco molto gli youtuber o comunque le persone che fanno, diciamo, strutture separate, a ste stanti. Tipo, lì faccio qualcosa di moderno, in stile moderno, lì faccio qualcosa di medievale, dall'altra parte faccio una pixel art. Non lo so, non è... Diciamo, non lo apprezzo come stile di costruzione, non lo ritengo molto bello e valido, perché, non lo so, è come se tu facessi una cozzaglia di cose che, guardata nell'insieme, davvero non dice niente. Tutte strade non collegate, tutte zone... E non c'entrano niente l'una con l'altra. Qui, comunque, sto buttando un progettone che più avanti andremo, più sarà bello. E ce n'è, e ce n'è da andare avanti in questa zona. Allora, qua devo toglierlo perché non arriva fin qua. L'unico problema è che facciamo passare qua sotto questo, bene. Qua sotto abbiamo tutte le farm e magari effettivamente potremmo trovare il modo di collegare queste strutture e fare magari queste farm qui o cose del genere. Poi, come vedete qua sotto, secondo me, c'è tutto lo spazio per fare le fogne. Soprattutto sotto le strade, che sono aree effettivamente che non vengono utilizzate dalle strutture, il che è un plus, assolutamente. E sono anche della grandezza giusta, quindi... Lo so, secondo me potrebbero essere sfruttate a dovere. Abbiamo finalmente un posto dove atterrare con i razzetti e non sto facendo tutto molto risicato. Allora, continuiamo a fare il contorno. Ovviamente piazzo la gravel per farvi già vedere come viene perché senza gravel, secondo me, perde molto la strada. La gravel comunque simula, diciamo... La strada magari viene spazzata o pulita e la gravel simula la sporcizia accumulata, i ciottoli accumulati e cose del genere. Mi piace molto come concetto in sé per sé. Allora, qua quindi dobbiamo... Vabbè, non è una piazza enorme effettivamente, però secondo me si può fare qualcosa di interessante. Cioè, non sarà enorme ma è carino. Allora, qua andiamo praticamente a prolungare il supporto per la gravel, in questo modo. E qua arriviamo già pericolosamente vicini alle altre aree, però per fortuna concludiamo prima. Anche perché ho in mente che cosa ci sarà ancora dopo quest'area. Quindi ho in mente molte cose. L'unica cosa è capire come effettivamente metterle in pratica. Perché ci sono delle cose che si possono fare davvero belle, però bisogna avere i materiali, la testa di progettarle perché sono ovviamente da progettare, e la voglia di costruire che effettivamente non è da sottovalutare come cosa. Ok, facciamo così. Qua andiamo a chiudere così almeno possiamo piazzare la stradina. Bene. E qua abbiamo una stradina. Anche di qua bisogna togliere e piazzare una strada. Che non so quanta lunga sarà, eccetera, probabilmente arriverà fino a là, però adesso non ci interessa. Allora, quindi, qua dobbiamo fare una cosina un po' importante, cioè vedere con i blocchi di stone, diciamo, fino a che punta arrivare. Allora qua c'è un po' di cobblestone, sì, 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 questa è buonissima. Facciamo in questo modo, anche fino a qua, qua andiamo a mettere questa roppetta, e qui il pavimento che poi gira. Molto bene. L'unico problema è che mi serve un po' di stone perché mi sa che abbiamo finito i mattoncini. Si scende, andiamo a prendere i mattoncini. Ok, ci siamo. Allora, continuiamo a mettere l'andesite qui. Bene, ecco qua. Ora, prendiamo un po' di cobblestone, facciamo passare qua sotto la linea per poi mettere la gravel. Ok, facciamo così. Poi, altra gravel. E praticamente abbiamo finito, almeno la progettazione della piazza. Quindi ora semplicemente è un lavoro di riempimento, molto semplice. Ecco qui. E questo, secondo me, è un buon lavoro di riempimento. Come vedete, praticamente abbiamo finito. Ora, ovviamente, dobbiamo un attimino comunque pensare anche al resto, ma mancano solo questi due lati. Facciamo così. Qua mettiamo l'altra gravel. Eccoci, già sta prendendo tutto forma, praticamente. Allora, qua andiamo a mettere altri blocchetti. Allora, qui facciamo una cosa del genere. Ok, bene. Abbiamo anche questo. Quindi, semplicemente, va bene, ho sbagliato tutto. Qua si vanno a mettere questi blocchetti. E ora manca questo lato qui, che sarà un po' più facile, dato che praticamente c'è già tutto. Mi serve un pochettino di stone, perché l'ho finita. E qua ce n'è un pochettino. Giusto poco. Eccoci. Siamo praticamente alla conclusione del perimetro delle strutture che circondano il centro. Che poi è la struttura che a me interessa attualmente. Ecco fatto. Manca questa. Basta? Sì, solo questa. Ed ecco fatto. Solo fatta. Ho fatto tutte e quattro le strutture centrali, per così dire. E questa è quella che rimane, cioè la piazza. Ora vado a fare almeno uno strato qua per iniziare a fare il perimetro anche di questo al centro. Che non è molto grossa, perché diciamo che rispetta le dimensioni che ci sono in quest'area, cioè due per due. E questo è l'ultimo pilastro che si trova al centro. Ecco qui. Questa sarà la struttura centrale, che effettivamente interromperà la visione dal fondo, però tanto non rientrerebbe in ogni caso. Quindi diciamo che la vera visione ce l'hai da qui che dici. Perché già da qua, comunque, si riduce il tutto. Ok, questa area per me è molto importante. Ho intenzione di farci moltissime cose. Ma per il momento direi di rilassarla così. Ok, abbiamo progettato la piazza che effettivamente ora, venendola dall'alto, vediamo com'è. Sì, vi dico, non è male. Sicuramente questa sarà una struttura speciale, quindi non penso che manterremmo questo perimetro qui. Comunque qualcosa cambierà. Però sì, va bene. Non è male come piazza effettivamente, diciamo, guardando le dimensioni solite. Perché comunque io non è che costruisco cose enormi. E già questo, come vedete, facendo una, due, tre, quattro, cinque, sei strutture, per lungo arriviamo tipo a fare 50 blocchi, quindi qualcosa di immenso. Ragazzi, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale per altri video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!